benvenuti ragazzi in questo nuovo video di minecraft sono da 250 e oggi andremo a fare questa mappa che si chiama grove of wind dovrebbe essere una ctm ma io ho bisogno di una spada fire shield è una armatura ok ok è tutto c'è via l'ultima un'fungo una lola una lola che vuole essere l'intessuto è basto Poi è tutto buono, non si vede quasi niente, qui c'è una cesta, ma dentro non c'è niente, qua c'è il grosso, e qui c'è uno spawner che li sfruttiamo. Un'altra punca, scappa, no, scappa, un po' altra scappa, mi dai buona spada, vediamo ora che si prende un legno, questo lo lasciamo qua, ora possiamo prendere un po' di legno che facciamo la spada, poi questo lo vediamo anche del carbone, facciamo un po' di torce per le spawner Ah, questo non c'è, non c'è, non c'è Ah, questo non c'è rilemmo, direttamente non c'è fuori キhere diclukse Anche di non c'è, non c'è fuori Ah ma che poi Allora, mi sto felicitando. Allora, prendo un altro po' di carbone. Facciamo questi, poi ci facciamo un altro po' di carbone, anzi no. Ci facciamo la spada. Aspetta così. Vediamo se sta un po' di... ecco. Uno, due e tre. Facciamo giusti giusti. Ah no, mostracci. Non ho tre. Vediamo, due slab. Questo è un blocco. Un blocco. Questo qua si può anche levare. Mettiamo tutto quello... Allora, questi ancora moriamo li lasciamo qua. Mettiamo tutto quello che non ci serve. Perché basta in cinza? Allora. Facciamo un po' di torcia. Il piccolo. E... Il piccolo. No, il piccolo ho detto. Di pietra. Ok. Così. Così mo' ci finiamo questo. Raccogliendo il carbone. Allora. Poi. E... Il piccolo. E... Il piccolo. Ecco, si è rotto, mo usiamo questo e il resto mettiamo qui, vabbè questo non ci rimanevamo, questo non mi serve, adesso possiamo andare in battaglia, mettiamo un po' di torce, non capisco l'utilità di quella cesta, mettiamo qua, no, su superficie no, tutto ma non su superficie, ma non mi serve, non mi serve, non mi serve, della mia armatura, questa cosa, no lo spacchiamo, no, proprio per spaccare, stupido, stupido, questo lo spacchiamo, no, basta, basta, sì, ci sarà anche questo, no, ci sarà anche questo, ancora altri, sì, basta, no, vabbè, io ho fatto l'altro qui, metto un altro spawn per caso, sono curioso, vediamo, penso che ci fosse, fino a qui, abbiamo fatto un po' dei spawn, una seconda, andiamo avanti, e siamo avanti, ultima ora andiamo, guarda, 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 che c'è sta qui, non sa lo fossero, guarda, 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 guarda guarda, guarda guarda, guarda, guarda guarda guarda, Allora queste qua li spacchiamo subito, ok, là vedo altre spume veloce, tappiamo col un po' più grandi, è proprio di uno scherzo, se non si sta a fare, è un po' più forte, puoi morire ragazzi eh, no! Oh ragazzi, mangiamo, bisogna non tornare al dietro per cosa, no, sto per morire, è morto, è morto, dove c'è? Uh, la spada che mi serve, la pananea, torce che mi servono, questi li vado a mettere, anzi, vabbè, lasciamo di qua tanto, non fa male a nessuno, questo li mettono qua, quello che tira questo, affidate se ne sottobietà, ok, questo lo vediamo un po' più, anche se non in pratica, ancora scherzo, ancora scherzo, qua non so cosa, di zombi, guardate mangiare, no, che ne è caso, boh, io ho fatto una cura, no, no, ho fatto una vibra, no, è questo, ok, facciamo un po' di cosa qua, per vedere, pensiamo che sta qua che c'è vista, ok, abbiamo fatto un po' di pose, qua, abbiamo fatto un po' di pose, qua, abbiamo fatto un po' di spawner, boh, stiamo lavorando a dire, questo è un po' di sudo che gli scherzo della nuova stiglia, e tu devi morire da mare, allora ragazzi, questo episodio può finire qui, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 Ciao